Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo percorso di preparazione della scuola che verrà. Porto i saluti della Presidente Kaladic, assente oggi per altri impegni istituzionali. Siamo qui stasera a dare un volto operativo e concreto al progetto manifesto Vogliamo fare scuola. La FIDAE vuole continuare ad essere accanto alle nostre scuole nella progettazione perché tutte possano ripartire da settembre con un volto nuovo. Ci aiuteranno ancora una volta gli esperti e ormai amici FIDAE, la professoressa Elena Granata del Politecnico di Milano, ormai nota a tanti di noi, e suo socio nello studio di comunicazione civile Fiore De Lettera, anche lui giornalista, editore ed esperto in branding e culturale. Diamo a loro subito la parola e il laboratorio che condurranno sarà interattivo, pertanto vi esortiamo al punto giusto, poi la professoressa Granata ci indicherà quando apporre domande. Chiaramente ribadiamo che al termine della conferenza ci sarà la possibilità di avere la registrazione disponibile. Vi arriverà un questionario che dovrete cortesemente compilare e al termine della compilazione riceverete l'attestato di partecipazione. Auguriamo a tutti una buona partecipazione e buon lavoro. Grazie, grazie Elena, grazie Fiore. Buonasera a tutti, bentrovati. Il mezzo è sempre avaro di relazioni umane, quindi ci piacerebbe molto poter essere in un'aula con voi, ma cercheremo più possibile di supplire ai limiti di questo mezzo, facendovi viaggiare attraverso delle aule, aule reali, che noi abbiamo visitato per voi nei giorni scorsi, che ci sono state, diciamo, generosamente concesse dal liceo, dal collegio Villoresi di Monza e quindi abbiamo utilizzato questo spazio come un test, un tester, per poter verificare, diciamo, in che modo possiamo riadattare gli spazi delle nostre vostre scuole perché siano pronte a settembre per accogliere i ragazzi, con la finalità che ci siamo detti nelle precedenti puntate, cioè che sposteremo i banchi, cambieremo gli assetti, trasformeremo le aule, non perché c'è il Covid, non è una ragione abbastanza valida, ma perché dobbiamo renderle sempre più adatte alla vita, alla creatività, alla serenità, alla felicità dei nostri bambini e ragazzi e quindi questo deve essere, diciamo, l'atteggiamento che ci guida a guardare gli spazi e quindi quest'ora, ore e mezza, quello che servirà, che vivremo insieme a voi, ci attendiamo, domande molto secche sulle questioni pratiche, fate domande di qualsiasi natura e sorta, riguardanti ovviamente lo spazio, i tempi della scuola, le potete fare attraverso la digitazione delle domande, per cui ci arriveranno in tempo reale, se volete avere la cortesia di indicare il vostro ruolo, se siete insegnanti, presidi, per noi è più bello, diciamo, rispondervi anche sulla base del vostro ruolo e vi presenteremo, diciamo, una carrellata di spazi tipo della scuola, che sono quelli in cui anche voi potrete riconoscervi, una carrellata di foto e di video, al termine della quale noi, diciamo, daremo spazio alle vostre domande, in modo tale che sia il più possibile dialogata e interattiva. Siamo qua soprattutto per rispondere alle vostre domande, quindi diciamo che questi piccoli video servono soltanto a stimolare le vostre domande e la vostra curiosità e interesse. Partirei con le prime. Sì, beh, partiamo dal dato di fatto. Partiamo da questa prima immagine che è l'emblema, insomma, paradigmatico di qualsiasi aula scolastica. È l'aspetto novecentesco, forse potremmo dire anche ottocentesco, del rigore geometrico, dei banchi affiancati in coppia, in questo caso già organizzatissimo, pronto alla riappertura, diciamo così, di settembre con tutti i libri di ciascun alunno sul banco. È un aspetto che inevitabilmente, che ci piaccia o non ci piaccia, andremo a, lo vedremo oggi, a scompaginare. In realtà poi è un assetto molto simile, e ve lo facciamo vedere anche perché ne parleremo, a quello all'interno dello stesso plesso di una scuola materna. La scuola materna, in cui comunque vige l'ordine geometrico. In questo caso, certo, è un assetto, come dire, a seguito delle pulizie di fine giornata, in cui quindi si ripongono e si rimettono nel loro ordine, forse della mattina, le sedie, i tavoli, anche per bambini molto piccoli della scuola materna. Quasi a ricordare che l'ordine e la disciplina, dal punto di vista geometrico, siano comunque la chiave, come dire, il principio ispiratore di tutta la didattica, diciamo così, delle nostre scuole. Beh, in realtà, come sappiamo poi, è proprio la scuola materna, in virtù della, come dire, dell'età dei suoi alunni, e che vive, non voglio chiamarla anarchia, ma sicuramente una maggiore fluidità didattica, di vita reale, durante la giornata, che qui in realtà non percepiamo. Naturalmente le fotografie le abbiamo fatte l'altro giorno in assenza di studenti. E forse a questo modello e alla vitalità di una scuola materna dobbiamo cominciare a pensare in questi giorni. Dicevamo prima, guardando questo assetto della scuola, di una classe, peraltro anche bellissima, di scuola materna, come in realtà tutta la giornata i bambini scompaginino l'assetto e che poi deve essere in qualche modo rimesso a posto dalle insegnanti o dagli ausiliari nel pomeriggio. In realtà ci piacerebbe immaginare degli spazi che i bambini possono lasciare in disordine perché non c'è un ordine a cui dobbiamo tornare alla fine della giornata. E quindi dopo capiremo insieme se ci sono altri possibili assetti e disposizioni per un'aula anche di ragazzi così piccoli, di bambini così piccoli. Passiamo a quella successiva che invece già ci porta alla disposizione possibile diversa da quella dell'aula precedente. Vi facciamo vedere un piccolo video, ci siamo cimentati con la trasformazione di quell'aula che avevate visto tradizionale. Qui barca. Quindi l'aspetto classico abbiamo provato a trasformarlo in isole. Isole molto semplici, alla fine l'aula è stata riorganizzata secondo tre isole nelle quali si ottiene una doppia finalità. Il distanziamento dei ragazzi, e questo è ovvio, qui siamo in un liceo, ma potrebbe essere l'assetto anche di una classe delle medie o delle stesse elementari. Ma anche la creazione di piccole community dentro l'aula. Vedete che sono come tre insiemi, molto semplici, con tanto spazio intorno. Le sedie sono state distanziate così da mantenere, diciamo, la metrica finora indicata dal ministero. Però non è solo quello lo scopo, è anche quello di creare delle unità di aggregazione che facilitano, diciamo, la visuale dei ragazzi. Una domanda qui potrebbe essere dove sta l'insegnante? Dove si dispone l'insegnante in una classe così fluida? Non c'è più la cattedra, non c'è più la lavagna? Sì, non ci sono più, nel senso che ci sono quando servono, ma l'insegnante può stare in piedi, può camminare, può ovviamente disporsi in maniera più libera nello spazio, può semplicemente sedersi su una delle sedie dei ragazzi. E, diciamo, questo crea molto movimento dentro l'aula. Una spiegazione anche di una materia tradizionale, in un assetto così che è semplicissimo, già innesca la curiosità dei ragazzi. E quindi avete visto come la prima proposta è passare dalla disposizione, ciascuno per sé, tutti orientati alla cattedra, a una disposizione per isole. Il numero di posti è equivalente. Beh, naturalmente il numero di posti che cambia in funzione anche delle dimensioni dell'aula. Noi avevamo a disposizione questa scuola che sicuramente rappresenta un episodio anche particolarmente felice dal punto di vista edilizio. Però, naturalmente, questa abbiamo visitato. Nella stessa scuola, peraltro, si sta portando avanti un programma di sperimentazione, di una didattica anche alternativa. E qui lo vedete. Un'aula in cui, a prescindere dal Covid, perché si parla già di un anno fa, si è cominciato a disporre i banchi in un altro modo. Qui lo vedete, naturalmente sono banchi dalla forma diversa, trapezoidali, ci sono varie aziende in Italia che hanno cominciato a vendere questo tipo di assetto. Componibili, dopo lo vedremo, secondo diverse configurazioni. però la logica dell'isola è la stessa. In questo caso la lima la vedete, e quindi presumibilmente la postazione del professore, del docente, in corrispondenza della lavagna. Adesso vediamo più tecnicamente il dettaglio anche della... Aspettate che mi grandisco. Vedete che sono ovviamente i banchi dotati di erotene. L'assetto che abbiamo visto prima, che però, ecco, con le necessità che potremmo avere a settembre, sono ulteriormente distanziabili. E quindi, per esempio, andiamo a esplodere, dal punto di vista geometrico, ogni singolo banco. Ma tenendo un'alterata, diciamo così, la disposizione poi generale dell'aula. Come avrete visto, si tratta di riutilizzare dei banchi che già le scuole hanno, con il zero, nella prima disposizione, quella che noi abbiamo, nella prima aula. E invece, laddove una scuola volesse fare un investimento, magari su un cambiamento più radicale dei banchi, anche questo modello con le rotelle è quello che troviamo più convincente perché consente davvero di trasformare l'aula in un luogo che si adatta alle esigenze o dei giorni, mattina, pomeriggio, la settimana. E questi, tra l'altro, in questa fase storica ci consentono il distanziamento in maniera molto semplice. Vediamo gli stessi banchi, la plasticità di questi banchi che consentono quindi una disposizione tradizionale, come questa immagine, ma ovviamente la forma così imperfetta suggerisce la possibilità di montare insieme delle forme diverse, come in questo caso, a coppie specchiate. In questo caso voi avete visto l'alternanza delle sedie a forma di semicerchio, ecco, sono tutte poi forme su cui possiamo tornare. ovviamente diverse anche a seconda che ci si tratti di una scuola superiore o di una scuola media, laddove si voglia controllare meglio l'assetto della classe, questo è sempre a isole. Le isole, a dispetto della loro nomea, consentono agli studenti una grande concentrazione, perché sono gruppi piccoli dentro un assetto di classe in cui i ragazzi possono guardarsi in faccia tra di loro, interagire e l'insegnante è una presenza, pur senza la cattedra, che diventa veramente praticamente inutile. La fluidità nello spazio dell'insegnante in realtà ha molta più presa sui ragazzi, anche dal punto di vista psicologico, perché gli consente di muoversi, di interagire direttamente con loro. E quindi vediamo nella prossima slide la sintesi un po' di questo assetto. Com'è fatta quindi un'aula che ci immaginiamo adatta alla didattica del futuro? Voi vedete che ci sono tutti gli elementi, ci sono questi banchi trapezoidali, ma davvero si può fare lo stesso assetto anche riutilizzando i vecchi banchi che avete, perché naturalmente non vogliamo suggerire l'idea che devono esserci costi aggiuntivi, si può ottenere lo stesso risultato anche col vecchio banco che avete in classe, ovviamente questo è più plastico, la LIM, quindi la possibilità sempre di più di fare e di adottare lo stile della didattica a distanza, confermati, mutuando dal web molti strumenti come peraltro viene già fatto in tantissime delle vostre scuole, voi vedete che l'assetto di quest'aula è un assetto completamente trasformato, dove al centro non c'è più la dimensione eterodiretta di tutti i ragazzi verso la cattedra, ma c'è una fluidità di relazioni possibili. Siamo convintissimi dal punto di vista psicologico che questo abbia un impatto molto forte sul modo di stare in classe. Sì, è evidente infatti che anche l'approccio didattico diventa da frontale anche collaborativo, nel senso che questo approccio è evidente che sollecita, deve anzi far leva proprio sulla collaborazione anche degli sguardi semplicemente durante la didattica tra gli studenti ed è evidente che qualche docente storcerà il naso, lo sappiamo già, però gioco forza. L'approccio sarà sicuramente più verso quello del laboratorio che non della lezione frontale. D'altra parte, invece per tornare alla lezione frontale, abbiamo considerato anche un altro assetto che peraltro avevamo quasi già pronto in vista della preparazione delle sessioni d'esame di maturità che è questo. Un'aula classica, un'aula sicuramente abbastanza grande nelle sue dimensioni in cui naturalmente la configurazione lineare a U dei banchi va diciamo a un'informazione di quello che è il perimetro poi della stanza stessa. Qui il distanziamento è fin troppo anche eccessivo considerando le norme a cui dovremo attenerci però attualmente c'è la modularità del banco che diciamo assecondava il salto di un banco per ogni posizionamento. Allora qui lo chiudo di qua. Quindi siamo passati da un modello a isole che è un modello incentrato diciamo su tanti poli a un modello invece che lavora sul perimetro e anche questo è molto efficace perché i ragazzi si vedono tra di loro in faccia si vedono molto bene cosa che di solito non avviene perché loro hanno sempre la visione delle schiene come in chiesa la visione di quello che sta davanti invece qui il vedersi il guardarsi ovviamente può essere fonte di distrazione però è certamente un elemento di catalizzazione molto forte quindi l'assetto perimetrale consente all'insegnante di avere in pugno la scena di quello che sta accadendo non solo perché può camminare può muoversi può gesticolare può stare seduto nel centro e quindi diciamo che la figura dell'insegnante può trarre davvero giovamento da questa nuova disposizione soprattutto nelle medie o in certe classi delle superiori qui abbiamo provato anche a lavorare proprio sul sul perimetro che è una cosa che si può fare agevolmente in tutte le classi soprattutto avendo fretta diciamo di cambiare l'assetto e qui abbiamo anche qui provato la verifica al distanziamento e quindi fare una sedia lavorare sul bordo sì questa era un'aula già con questo assetto a cui abbiamo cercato però di aumentare qualche costo facendo che cosa ovviamente cercando di far aderire la come dire la la forma della U il più possibile al perimetro esterno quindi aggiungendo naturalmente una posizione spostando adiminano tutte cose di buon senso nulla di particolare naturalmente aggiungendo però due banchi che vuol dire in totale per semplicità l'aggiunta di sei posti in totale naturalmente e lo vediamo anche qua dopo nella foto successiva risparmiamo ogni singolo esatto allora intanto arriva qualche domanda che raccolgo subito e quindi si chiede se la distanza deve essere tra i banchi o la distanza deve essere tra gli alunni allora la distanza deve essere tra gli alunni nel senso che non si potrebbe fare una metrica con i banchi avendo ogni scuola banchi molto diversi diciamo che la distanza suggerita va dal metro ai due metri il metro è quella minima e poi bisogna fare i conti ovviamente con gli spazi delle scuole e si arriva a un massimo di due metri che è stato quello diciamo imposto ad esempio per l'esame di maturità quindi dovete capire quanti perché ovviamente il calcolo che dovrete fare è distanza tra le teste quanti banchi ci possono stare a questa distanza in una classe media delle vostre perché ovvio che è un conto che non potevamo fare per voi qual è la soluzione più ottimale per la classe che dovete gestire così da ottenere la distanza necessaria dunque quanti alunni per aula dipende dal numero di aula cioè dipende dalla grandezza dell'aula quanti alunni in realtà prima domanda distanza tra i banchi esatto ok e questo dipende moltissimo dalla morfologia naturalmente delle delle aule che possono avere proporzioni più o meno esatto ovviamente qualcuno dice ma per il nido come ci si può organizzare per il nido come ci si può organizzare allora nel caso del nido ogni ragionamento di distanziamento non può essere applicato perché il distanziamento ovviamente richiede la capacità dei bambini di interiorizzare la distanza e anche il rispetto delle regole quello che abbiamo diciamo concordato insieme ai pediatri ma che sarà l'oggetto della prossima puntata dedicata a questo quindi relazione tra spazi dimensione della salute e consulente pediatrico è quello di avere un ambiente più possibile aperto con meno ingombro possibile in cui i bambini si possano disporre nello spazio con serenità e con libertà occupando tutto lo spazio possibile possiamo tornare in coda a uno dei nidi per capire quale suggerimenti dare quindi più possibile lasciare che i bambini naturalmente occupino tutto lo spazio dell'aula gli studi psicologici ci hanno finora consentito di osservare quali sono i comportamenti dei bambini anche molto piccoli nello spazio e come i gas i bambini tendono a occupare più possibile gli angoli gli spazi aperti a trovare ciascuno il suo spazio nell'aula e quindi il consiglio che vorremmo darvi è ingombrate meno possibile l'aula a costo di togliere i piccoli banchi le sedie cuscinoni spazi aperti perché la libertà dei bambini gli consentirà come i gas di andare più possibile agli estremi dell'aula è ovvio che il distanziamento per un nido o per una materna è impensabile l'uso degli spazi aperti la natura areare i beni locali cioè è più possibile creare quell'ambiente salubre che sarebbe peraltro auspicabile in condizioni anche normali senza il virus le esperienze temporane più importanti penso alla scuola materna di Guastava tutti quelli che insegnano in asilo conosceranno oggi che è stato pluripremiato in tutto il mondo piuttosto che all'asilo della scuola materna di Tezuka a Tokyo vivono all'insegna di una pedagogia degli spazi aperti quindi con meno ostacoli meno ingombri meno oggetti all'interno dello spazio stesso ok poi c'è un professore fa una domanda molto bella chiede professori di matematica a scuola media l'utilizzo della lavagna per le spiegazioni interrogazioni come fare soprattutto con chi è di schiena allora siamo molto abituati che il momento della spiegazione ovviamente è un momento soprattutto per le discipline che richiedono tanta scrittura alla lavagna un momento che richiede massima concentrazione dei ragazzi è chiaro che bisognerà trovare un luogo dal quale sia possibile per tutti i ragazzi guardare la lavagna magari semplicemente inclinando di pochissimo il banco nell'assetto che abbiamo proposto a isole in realtà la visuale è sempre possibile non dovrebbe che lì basta disassare leggermente le isole in modo tale che non ci sia mai quello che ti dà le spalle dopodiché dobbiamo anche uscire dall'idea che la memorizzazione di quello che viene scritto alla lavagna avvenga in quel momento perché la didattica a distanza in queste settimane ci ha spiegato ci ha insegnato che può esserci il momento della spiegazione e poi questo momento della spiegazione può essere anche in qualche modo registrato gli studenti possono tornare sulla spiegazione che magari viene fatta anche a distanza il materiale può essere nuovamente scaricato allora l'idea è se riusciamo insieme anche a scardinare un pochino l'idea che la lezione debba essere fatta secondo i canoni che abbiamo utilizzato nel passato bisogna ok poi c'è previsto un numero di metri quadri minimi da destinare ad ogni alunno no il problema non è no non c'è una metrica legata alla quantità di spazio ahimè abbiamo avuto nel passato anche aule densissime oggi l'unica cautela che viene chiesta è la distanza tra i ragazzi e quindi diciamo che diventa quello il criterio dal nostro punto di vista non è solo una questione di distanza ma è una questione anche di riorganizzazione dei ragazzi nello spazio ma i tanti disposti a ferro di cavallo possono essere concentrici per guadagnare spazio assolutamente sì questo è un ottimo suggerimento si possono anche creare una doppia corona una più grande e una più piccola esatto avrei voluto aggiungere proprio questa osservazione alla foto che avete adesso online cioè come vedete lo spazio ricavato esplodendo i bracci della U verso l'esterno è ancora maggiore e quindi con una diciamo qualche pregiudizio o meno sul rigore e la geometria e qualche slancio creativo possiamo anche pensare di mettere per esempio di banchi all'interno di quello spazio non la disposizione di ogni studente non sarà omologa l'una all'altra pazienza dobbiamo cercare di sfruttare lo spazio in modo anche creativo e lo vediamo in realtà poi anche nella foto successiva che è un'aula di computer qui il caso proprio che ci ha illustrato la responsabile è proprio di come dire spazi di rispetto per studenti allora questa è un'aula fidatevi ve lo dico io perché ricordo bene la situazione ma ci vedo questo è un video di 24 postazioni 24 postazioni perché sono 4 file di 6 posti di 6 computer ciascuna naturalmente anche in questo caso posti rigidi perché ciascuna postazione naturalmente ha il suo vanno per i cavi e quindi le metriche le gambe del tavolo quindi non si può andare ad approssimazione o sono 6 o sono 3 e quindi naturalmente dimezzando completamente le postazioni vuol dire che avevamo 12 postazioni contro 24 allora in questo caso come vedete bisogna agire con quel buon senso che abbiamo in casa quando improvvisamente ci arriva un parente che si sistemerà in casa nostra per 6 mesi o un anno dobbiamo scompaginare un po' l'assetto semplice in questo caso delle scrivanie aggiungendo un banco abbiamo fatto i conti 60 cm si recuperano a sinistra 60 cm si recuperano a qui e il problema è che poi come si fa a passare ci diceva ci spiegava la docente beh per esempio spostando banalmente questo mobile molto ingombrato di 60 cm il corridoio è un mobile come spesso succede in tante scuole come succede nelle nostre case in cui non c'è assolutamente nulla e quindi forse si può spostare per l'anno che servirà ad aggiungere anche in questo caso longitudinalmente altre 4 postazioni e quindi non siamo arrivati a 24 ma siamo arrivati a 18 allora vedo che ci sono tantissime domande tutte molto belle tutte molto alcune molto tecniche chiedo alla nostra regia se ce le può salvare tutte perché ovviamente ci sono alcune domande a cui risponderemo subito altre a cui vi risponderemo potremmo fare diciamo a valle di questa conversazione un documento da consegnarvi con tutte le risposte caso per caso perché alcune sono anche molto tecniche quindi ad esempio su quanti devono essere i bambini all'asilo nido lo possiamo andare a verificare per cui rispondiamo alle domande a cui siamo in grado di rispondere le altre ci impegniamo a fornirvi tutte le risposte utili in modo tale da mettere insieme diciamo un dossier con le vostre domande e le nostre risposte c'è ad esempio la questione tecnica dell'area di pertinenza per l'evacuazione ecco allora noi non abbiamo ancora avuto disposizioni anche perché la materia è molto fluida compatibilità tra le classiche regole di disposizione delle aule e l'emergenza covid e quindi anche lì bisognerà usare il buon senso evitare di avere degli spazi troppo stretti rispetto alla parete tenere un certo distanziamento ovviamente molte di queste cose non le troveremo scritte da nessuna parte quindi dovremmo andare a buon senso poi c'è qualcun altro che chiede scusate Elena vorrei fare un esempio pratico che abbiamo proprio esaminato direttamente con chi ci ha assistito nella visita del collegio a Monza pensate banalmente alle porte tagliafuoco ogni porta tagliafuoco che dovrebbe essere la norma di legge rigorosamente chiusa se no il fuoco non lo taglia costituisce di fatto una strozzatura per qualsiasi tipo di flusso quindi se ci sono più persone che si avvicinano da una parte o dall'altra nella porta ci si accalca normalmente ci si avvicina e molto più di quello che dovremmo e quindi il buon senso ci suggerisce che cosa di tenere le porte tagliafuoco aperte perché nel momento in cui è tutto aperto come abbiamo detto nelle aule naturalmente i flussi si aprono e le distanze sono più rispettate in modo naturale e qui capite bene che c'è già un conflitto tra norme tra le norme precedenti e quelle che ci suggerisce il distanziamento e quindi questo lo capiremo forse proprio nelle prossime settimane queste alcune domande tutte sono bellissime uno chiede di riguardare le aule vabbè c'è tutto il tema dei corridoi a cui adesso arriviamo poi c'è il tema del il rapporto insegnante all'unico nel nido e nell'infanzia questa è una questione su cui possiamo tornare subito se ci sono limiti questo non si è capito ancora bene se è sufficiente mantenere se diciamo uno ha a disposizione un'aula molto grossa può arrivare anche a 27 alunni in classe cioè se è solo una questione di metrica e la metrica è garantita questo dobbiamo capirlo ipotesi assetto per un'aula prima di scuola di scuola primaria ok è vero che bisognerà mettere da parte la settimana corta sembrerebbe di sì sarà possibile mantenere in una classe 21-22 alunni non dovrebbero esserci problemi la palestra avendo la metà degli alunni a casa ok perfetto ci ritorniamo è importante che vengano salvate perché così tutte le domande a cui non rispondiamo in presenza rispondiamo a giro diciamo di pochissime ore tornerai sulla allora uno dei messaggi che vorremmo darvi è non ci sono spazi inutili nelle nostre scuole proviamo a guardare non soltanto lo spazio dentro l'aula ma tutti quei potenziali spazi fuori dall'aula che possono costituire diciamo delle dependance rispetto all'aula chiusa perché questo consentirebbe anche di alternare delle attività dentro fuori l'aula nel classico corridoio di pertinenza e questo diciamo consentirebbe anche di ovviare alla questione di quanti alunni possono stare in aula perché se si pensano degli scaglionamenti però in spazi di prossimità questo potrebbe costituire diciamo un escamotage possibile poi c'è il nido questo ok questo ad esempio è sempre la sperimentazione della scuola media voi vedete che in una classe così addirittura sono stati aboliti i banchi e tutto lo spazio delle pareti è uno spazio diciamo che può essere utilizzato come lavagna adesso con l'impresso della luce non si vede bene ma ci avviciniamo però tutte le pareti sono a lavagna come si dice tecnicamente quindi ci si può scrivere è un aspetto volutamente open quindi ibrido nel caso la dotazione prevedeva questi puff paralleletibili o schiumato che possono essere utilizzati in vari assetti come avete visto come seduta come appoggio anche per le braccia in piedi è chiaro un posto non essere adatti questi assetti per qualsiasi materia ma per molti sì e quindi poi gli spazi vi faceva riferimento qualcuno prima cioè gli spazi comuni che possono essere in questo caso una sala audiovisiva di audiovisivi naturalmente ciascuno ce l'avrà più o meno grande in funzione delle scuole oppure i corridoi in questo caso abbiamo dei corridoi enormi sia in lunghezza sia in larghezza già utilizzati peraltro come vedete con delle postazioni diciamo fisse semi temporanee perché in realtà sono movimentabili ma non così facilmente che possono essere naturalmente utilizzati per lo studio anche maggiore autonomia da parte degli studenti ma vedete anche un miliardino e i corridoi che sono molto lunghi nel caso del collegio che abbiamo visitato come vedete sono anche molto aperti in questo caso ci sono 4-5 tavoli qui siamo nell'altra dell'ala ovest quindi tavoli che vedete di più però naturalmente questi c'era una domanda proprio sul corridoio a noi interessa molto il tema del corridoio perché è il classico spazio di scuola che non viene assolutamente utilizzato e ci siamo posti una serie di problemi tecnici ovviamente perché il corridoio di solito è il luogo più rumoroso il luogo dove si mescolano le classi e questo potrebbe costituire un problema quindi si può andare immaginando dei setti di divisione tra un'aula e l'altra che poi è quello che vedete anche tra la serie di armadietti e quindi c'è una scansione naturale che fa sì che ogni aula abbia il suo spazio di pertinenza e poi ci sono questi tavoli anche lì che possono essere utilizzati perché cosa questi tavoli molto fluidamente per alcune attività che i ragazzi possono svolgere in autonomia la scrittura di un tema un compito in classe qualcosa che non richieda il controllo necessariamente stretto da parte del docente alleggerendo diciamo il numero dei ragazzi che stanno in classe e questo diciamo può essere una cosa che entra nella fisiologia delle ore potrebbe essere utilizzato là dove una scuola è molto piccola per il colloquio con i genitori potrebbe essere il luogo dove si fanno alcune interrogazioni che magari portano fuori gli studenti come spesso accade sfruttando quest'area del corridoio è certo che bisogna cominciare a immaginare che questo fuori è una zona non solo di passaggio ma anche dove sostare questo tra l'altro ci sembrava molto importante come spazio anche laddove dobbiamo ripensare le mense le mense sono un altro problema enorme gigantesco la stessa mensa del collegio villoresi non è più adatta a essere riaperta così com'è a settembre perché non ci sono gli spazi minimi di solito le mense sono dei luoghi molto affollati sotterranei e quindi in qualsiasi modo vanno evitate però c'è il problema del come possano essere consumati i pasti dai ragazzi allora in questo caso la nostra proposta è una proposta semplice salomonica avere ancora ovviamente la mensa però distribuire i sacchetti ai ragazzi perché possano consumare il pasto in autonomia dove ecco questo ad esempio è la classica disposizione di una mensa vedete che non ci sono assolutamente le possibilità di creare distanziamento questa è una mensa che già lavora su due o tre turni e questo è un altro problema delle scuole che molti di voi avranno turnazioni che già adesso sono al massimo diciamo dell'intensità e quindi l'idea potrebbe essere che il pasto viene preso nella mensa e poi però consumato dai ragazzi altrove dove ovunque dal nostro punto di vista il momento della consumazione dei pranzi può essere veramente un momento sociale un momento che li fa stare all'aria aperta nel cortile immaginando che può essere fatto anche in maniera composta nei corridoi immaginando dietro ovviamente tutta un'educazione e alimentare e alla compostezza ecco questi mi ricordo che giusto a titolo di cronaca questa mensa per carità adesso c'era un'altra piccola però era comunque una mensa questo è lo spazio riservato agli alunni di un istituto con se non vado errato Elena 1100 ragazzi capite bene se non vado errato si parlava di quattro turni quindi diciamo una logistica già sicuramente complessa precedentemente al covid che adesso diventa preciò che insostenibile questo è invece lo spazio riservato ai docenti esatto qualcuno chiede se questa stessa diciamo libertà nel consumare il pasto possa essere adattata anche al nido e alla scuola materna è ovvio che per il nido e la scuola materna bisognerà fare un ragionamento diverso in quel caso anche soltanto il banale distanziamento intorno al tavolo potrebbe garantire quella sicurezza che in realtà il ministero auspica quanto riguarda la mensa ci si può organizzare perfetto in un'aula di 6x6 quali potrebbe essere una disposizione di bianchi che sfrutti al meglio lo spazio disponibile ok allora mi sembra che tanti di voi ci chiedono come fare senza snaturare l'assetto della classe partendo dall'assetto tradizionale a ottenere una dimensione o un distanziamento ottimale non è detto che si possa cioè dovremmo vedere caso per caso dovremmo farvi lo studio ad esempio potremmo farvi il disegnino dicendo 6x6 quanti banchi ci stanno non è detto che si riesca a fare con questo tipo di spazio immaginando dei corridoi perché diciamo la formula più semplice è scardinare l'assetto questo potrebbe essere fatto anche sperimentalmente per un semestre e potrebbe essere qualcosa che gli studenti e che i professori studiano anche negli effetti sulla classe perché sono tutte disposizioni ovviamente reversibili quindi si potrebbe anche provare a vedere che cosa cambia qualcuno chiedeva per i primini quindi per la prima classe delle elementari quale potrebbe essere la disposizione più felice in quel caso io non avrei mai fatto la disposizione tradizionale nel senso che passare dalla materna alla scuola elementare una disposizione per isole per gruppi la possibilità anche di alzarsi durante l'ora la possibilità di seguire le lezioni in piedi sono tutte possibilità che oggi sarebbero auspicabili capisco che spaventino molto i maestri e le maestre e i professori e le professoresse però pensate che nella disposizione degli uffici oggi sempre di più si suggerisce la postura eretta almeno una parte della giornata non stare sempre seduti sul banco che ovviamente ha le sue implicazioni sulla salute per cui se solo avessimo un pochino più di coraggio proveremmo ad azzardare qualche cambiamento che sarebbe salutare per la salute ma anche per l'apprendimento ci sono bambini che faticano davvero a star seduti sì ma come l'altra parte sappiamo anche nel mondo degli adulti quanto sia difficile partecipare a un convegno stando seduti due o tre ore di fila quindi non possiamo non meravigliarci dopo se anche per un ragazzo di sei anni piuttosto che di dodici sia così difficile è inevitabile tornando a qualche domanda di prima non poter dare risposte esatte e soddisfacenti a tutte le richieste perché parliamoci chiaro se un'aula è già piccola e la densità è alta è praticamente impossibile riuscire a ad avere tutto e quindi ad avere un distanziamento ma con il medesimo numero di prima dei ragazzi all'interno dell'aula è impossibile e quindi bisogna e qui torniamo all'idea di questa immagine anche un po' esemplificativa del corridoio tornare cioè cominciare a sperimentare una nuova didattiva che metta al centro non necessariamente la lezione frontale la concentrazione diciamo a cui siamo abituati per un'ora della lezione frontale ma ha uno scambio ha una vivacità anche del ritmo per cui il prof potrebbe entrare e uscire esattamente d'altra parte come si fa all'università in cui ci sono alcuni studenti che seguono le lezioni che seguono le lezioni e altri che studiano insieme e quindi secondo sessioni che diciamo si avvicendano durante l'arco di un'ora piuttosto che due ore come d'altra parte mi ha fatto in questi tre mesi e abbiamo capito tutti che è impossibile avere la concentrazione dei ragazzi per tre ore di fila davanti al computer e quindi abbiamo dovuto come dire parcellizzare esplodere deflagrare la lezione frontale e in qualche modo dovremmo continuare a farlo pur stando all'interno dei muri di una scuola allora c'è una domanda sui flussi se ci sono soprattutto per la scuola primaria dei limiti no in realtà l'unica cosa che viene richiesta è il distanziamento ovviamente i momenti più preoccupanti sono l'ingresso a scuola che è il momento di massima concentrazione per cui si possono immaginare degli scaglionamenti di orari e l'orario d'uscita è ovvio che qui questa è una cosa che bisogna verificare scuola per scuola a seconda del numero di ingressi del numero di bambini del numero di ragazzi della quantità di scuole che si intersecano per cui qui possiamo magari profilarvi alcune ipotesi a seconda della complessità dell'organizzazione scolastica e poi c'è qualcuno ovviamente della scuola elementare che è molto preoccupato ad esempio del momento della mensa perché immagina che scompaginare la struttura organizzativa dei banchi o dei tavoli in cui si mangia immaginando altri assetti potrebbe essere difficile da controllare è vero capiamo le vostre paure profondamente però i bambini si adattano molto più di quello che ci immaginiamo al cambiamento questo non vuol dire lasciarli andare bradi come delle pecore in giro per la scuola ma organizzare delle piccole aree strutturate modello isola in cui i bambini con un po' più di libertà possono disporsi per mangiare vi assicuro che ci sono sperimentazioni in tutto il mondo in tutte le scuole nordiche in cui i bambini proprio a cui viene data più responsabilità escono cittadini più responsabili non vi siete mai chiesti perché in Italia i ragazzi escono così poco responsabili rispetto alla cosa pubblica rispetto alla valorizzazione dello spazio fuori di casa allora forse perché li stiamo organizzando come se fossero incapaci di assumersi delle responsabilità allora tornare in aula a settembre richiederà un grande ingaggio dei bambini perché siano responsabili come non sono mai stati e questo può essere l'occasione per cui il cambiamento delle abitudini diventa una grande possibilità di responsabilizzazione se ci perdiamo quest'occasione perché abbiamo paura cresceremo una generazione di persone non responsabili e questo non ce lo possiamo permettere non la disposizione non la uso mai ma danni banchi tradizionali allora questa non ho capito la domanda quindi l'improponibile sulla messa non disposizione tradizionale banchi tradizionali solo rettangolari questo è come dire non abbiamo un'opzione tra una cosa e l'altra questo ultimo tempo si fa allora le linee guida noi non abbiamo delle linee guida nostre le stiamo mettendo insieme e questo webinar serve per raccogliere le vostre questioni le vostre critiche i vostri desiderati i vostri problemi e darvi offrirvi da parte nostra quindi di tecnici delle linee guida confezionate ad arte per voi che mutuano le indicazioni del ministero ma le adattano alle vostre esigenze perché questo è il lavoro che possiamo fare insieme con FIDAE per cui certo avrete delle linee guida molto più come dire semplici di quelle che stiamo dando in questo momento che vi consentono già nelle prossime settimane di provare a guardare le vostre aule e cambiarne l'assetto come organizzare il dormitorio alla scuola dell'infanzia ma forse il dormitorio è quello che crea meno problemi perché il problema semplicemente si tratta della prossimità tra i bambini per cui in realtà laddove ci sono dei letti autonomi come avviene in ogni scuola dell'infanzia non dovrebbero esserci difficoltà il problema quando sono svegli il problema è quando si svegliano ci saranno indicazioni per la scadenza temporale per l'ingresso e l'uscita dalla scuola allora queste sono cose che non dipendono solo da noi da quello che si può immaginare perché ci sono questioni sindacali e questioni legate al ministero per cui anche su questo appena avremo chiarezza nel nostro documento affineremo il colpo io credo che le scuole paritarie hanno una libertà in più anche da questo punto di vista però bisognerà verificarlo nei prossimi giorni esatto andrei molto volentieri sulla parte dello spazio aperto perché ci sono tantissime domande che riguardano che sono quelle diciamo i momenti che ci fanno più paura sono i momenti in cui si esce dal controllo dell'aula aula tradizionale quindi l'intervallo il momento dell'ingresso questi sono i momenti diciamo in cui facciamo più fatica a immaginarci l'assetto allora anche in questo caso l'indicazione è non ci sono spazi inutili questo è ad esempio uno spazio che appena è stato rimesso a posto davanti alla scuola alterna quindi è uno spazio accessibile ai bambini molto piccoli guardate com'è uno spazio da adulti ma che in realtà può essere utilissimo per il racconto delle storie per intrattenere i bambini per cantare per il coro tutte attività che i bambini fanno con grande compostezza se vengono educati ed è uno spazio all'aperto allora guardare con un occhio e questo spazio non è mai stato utilizzato dalla scuola fino a questo mese quando è stato ripulito si è immaginato che potesse essere adatto nonostante sia di marmo e quindi diciamo un pochino rigido dal punto di vista dell'organizzazione però si è pensato che possa essere usato come spazio di libertà per i bambini proprio molto molto piccoli questo tipo di spazio non è stato pensato per loro in realtà è uno spazio altamente educativo intanto salubre di suo perché è uno spazio all'aperto che consente di disporsi con grande libertà che crea community che crea concentrazione perché si è tutti rivolti a chi racconta a chi canta a chi parla questi spazi spesso ci sono nelle vostre scuole cioè quegli spazi un po' di risulta a cui non guardiamo mai quindi momento dell'intervallo momento dell'ingresso momento la pausa pranzo cioè più possibile immaginare di portare i ragazzi in quei luoghi latrio quei luoghi che di solito non valorizziamo molte domande sono ancora su ecco la questione dei genitori allora il momento dell'uscita dell'entrata ancora può essere immaginata scaglionata capiremo e ci faremo un'idea insieme a voi l'uscita dalla scuola è un momento che non ha mai funzionato perché è il momento più caotico il momento in cui si fermano i genitori con le macchine i babysitter così e spesso lo spazio limitrofo alla scuola non è uno spazio adatto allora è veramente incredibile che in questo paese i bar possano avere davanti i tavolini a occupare lo spazio pubblico e le scuole non possano presidiare lo spazio davanti all'ingresso per la sicurezza dei loro bambini quindi immaginando di poter occupare temporaneamente anche la strada il marciapiede ovviamente ma anche la strada laddove non ci siano delle piazze dedicate all'ingresso a scuola questa è una politica che si sta portando avanti in tanti paesi italiani a Bergamo l'hanno sperimentata l'idea della strada chiusa davanti al flesso scolastico in coincidenza dell'uscita è una cosa che richiede l'accordo con gli amministratori locali che si può fare nelle piccole amministrazioni si può fare con una contrattazione ovviamente invocando una ragione di salute ma potrebbe essere poi la classica conquista che ci portiamo avanti nel tempo cioè nell'ora in cui i bambini escono da scuola i genitori devono avere spazio i bambini non devono essere messi in condizioni diciamo di disagio dal passaggio delle macchine su questo vi possiamo produrre materiale per se abbiamo voglia di farlo come facciamo chi l'ha già fatto quali amministrazioni si sono già diciamo avventurate in questa direzione ci sono delle norme di assistenza per i ragazzi delle quali non si può prescindere ah ok qualcuno dice non si possono lasciare soli certo e quindi mai aspetta che non ho capito questa domanda ci sono delle norme di assistenza e sicurezza dei quali non si può prescindere lasciarli in autonomia certo sì sì ma infatti noi non abbiamo in mente di lasciarli da soli ma di sfruttare delle aree limitrofe all'aula come ad esempio in corridoio di pertinenza come ad esempio in cortile in certi momenti garantendo sempre la presenza degli aiuti le linee guida per facer riferimento ovviamente al momento sono quelle molto lasche date dal ministero non mi chiara la questione della settimana corta significa aggiungere un giorno alla settimana questo della allora questo della settimana lunga o corta da quello che ho capito mi sembrava impossibile con le indicazioni ministeriali però devo verificare se e per quali ordini di scuole ok chiedo in un'aula 6x6 già organizzata in modo non tradizionale niente cattedra è possibile mantenere la distanza con 25 bambini io non riesco a trovare la soluzione ok allora domani noi ci impegneremo a fare una piccola planimetria e capire se c'è la quadra no però possiamo già anticipare che 6x25 bambini in un'aula di 6x6 è veramente difficile è quasi impossibile sì perché ci siamo posti la stessa questione guardando un'aula più o meno simile peraltro è la misura tipica delle aule italiane per cui sono più o meno fatte così sì anche perché possiamo fare il calcolo 36 36 diviso 25 fa un metro 4,44 metri quadro a bambino quindi nulla ok i bambini con la disabilità allora bambini con la disabilità sono la grande occasione la grande occasione per le aule in chiave paradossale benedetta sia la classe che ha un bambino disabile perché è la classe nella quale più spazio riusciamo a lasciare aperto e quindi più disposizione per le isole più possibilità di muoversi tra i banchi e più è adatta al bambino con disabilità fisica o psichica nella classe dei miei figli c'è un disabile per ogni scuola è una media diciamo comunale e si fregia di avere pochi bambini per aula ma di poter accogliere bene i bambini disabili quindi questa diciamo che è una sfida interessantissima inoltre bisogna lavorare assolutamente sulla presenza in classe del maestro o del maestro di sostegno professore di sostegno che affianca il disabile perché quella potrebbe consentire di fare una didattica tra l'altro controllando anche quella parte di classe che eventualmente deve essere destinata al corridoio e quindi là dove ci fosse un bambino disabile le condizioni per lavorare bene ci sarebbero tutte anche su questo vi diamo poi delle indicazioni specifiche dunque mi chiara la questione una settimana corta su questo dobbiamo verificare torno indietro scusate per vedere se ci siamo dimenticati qualche domanda passerei intanto magari procediamo intanto che ok allora mi pare di capire che le questioni diciamo le questioni che ci fanno più problema e su quali faremo degli approfondimenti sono ingresso come scaglionato ingresso e uscita dalla scuola che sono i momenti di massimo caos come gestire gli intervalli in modo tale da non avere gli studenti tutti insieme il momento mensa che mi pare che è quello che inquieta di più e che invece noi amiamo molto perché la pollizione della mensa tradizionale dovrebbe essere vissuta come un momento fortemente educativo esageriamo come il momento intorno al quale viene ripensata tutta l'educazione dei ragazzi perché il momento in cui si impara a essere composti si impara a fare la raccolta differenziata si impara a rispettare il cibo che mangiamo a capirne il valore e quindi volendo soltanto in quell'ora in cui si mangia si fa l'intervallo noi potremmo ripensare completamente i valori che stiamo passando ai nostri ragazzi è ovvio che questo è il momento più inquietante è il momento in cui si ha paura di perdere il controllo sui ragazzi però è l'ora dalla quale potremmo avere più soddisfazioni perché se ci ricordassimo che la cittadinanza dei bambini e dei ragazzi noi la costruiamo mentre mangiano e imparano a dar valore a quello che mangiano imparano a dare valore a prendere ciascuno il suo vassoio o la sua confezione diciamo di catering che potrebbe sostituire il pasto e in che modo restituire quelle confezioni perché non si sporchi in che modo lasciare pulito ecco quelli potrebbero essere veramente i momenti più formativi della giornata compresa la merenda e quindi noi anche nel prossimo webinar con il pediatra torneremo molto sulla questione alimentare perché la questione alimentare il modo in cui i bambini mangiano voi sapete che la maggior parte dei bambini detesta le mensi a scuola detesta il momento della mensa che è il momento più caotico il momento in cui si mangia c'è tantissimo rumore il momento in cui si mangia ma si scarta tantissime cose che non piacciono ecco su queste dimensioni che sono quelle valoriali educative penso che si potrebbe fare un ragionamento un ragionamento molto approfondito proprio a partire dalle scuole paritarie poi c'è la questione di settimana lunga settimana corta su cui potremmo tornare anche con un secondo diciamo appuntamento e poi ovviamente c'è la questione diciamo là dove non ci fosse la possibilità di avere un'aula per tutti i bambini iscritti a quella sezione che cosa si può fare? e qui ovviamente sono tutte domande che noi dovremmo poter rivolgere a un rappresentante del ministero perché lì attiene agli accordi che le singole scuole potranno fare col ministero dell'istruzione e capire là dove non ci sono le condizioni fisiche che cosa fare soprattutto in scuole molto grandi con tanti bambini questo diciamo che o si opta per l'utilizzo di corridoi di atri di palestre ad uso didattico allora otteniamo quella metrica che non possiamo ottenere oppure è molto difficile e lì va fatto scuola per scuola dunque vediamo la questione del nido ok come indicazione di massima ci sarebbe sgombrare più possibile le aule questo anche per i bambini molto piccoli siamo abituati a organizzare molto i loro spazi di gioco per aree per aree semantiche dove diamo dei messaggi c'è il luogo dove si legge il luogo dove si dorme ecco le sperimentazioni più interessanti sulla scuola proprio della primissima infanzia ci dicono che uno spazio liberato da tanti oggetti è uno spazio che i bambini abitano con più creatività e più serenità a costo di togliere i banchi a costo di togliere le sedie quando i bambini sono molto piccoli questo consente appunto come dicevamo un utilizzo più estensivo degli spazi consente che i bambini si organizzino per piccoli gruppi e evita diciamo la concentrazione dei bambini sui bambini molto piccoli si può lavorare anche a partire dalle attività quali sono le attività che li ingaggiano evitando la promiscuità la prossimità tra di loro e quindi come capite non è soltanto una questione di spazi ma è una questione di ripensamento di tutte le attività che facciamo insieme a loro pratiche igieniche lavarsi le mani lavarsi le mani più possibile aprire le finestre possono essere tutte cose che veicoliamo in maniera fobica e quindi cresceremo una generazione patogena oppure possono diventare le occasioni per cui lavoreremo molto di più con l'acqua lavoreremo tanto con i saponi con le bolle di sapone insegneremo ai bambini ecco quindi ricordiamoci sempre che le scelte che facciamo non sono dettate soltanto dal rischio sono dettate da un valore pedagogico educativo lo stesso per lo spazio pubblico e lo spazio aperto sicuramente nelle vostre scuole avete degli spazi di prossimità cortili interni piccoli parchi giardini che magari afferiscono alla scuola oppure esterni alla scuola anche su questo si possono fare degli accordi con le amministrazioni o con dei soggetti esterni alla scuola per immaginare di usare non soltanto laddove non bastino di usare anche degli spazi che non sono di proprietà delle scuole stesse e anche qui si tratta di usare non ci sono dei protocolli non è stato fatto ancora in Italia ci sono pochissimi esperimenti in questa direzione bisogna cominciare a costruire le condizioni per cui la scuola esca dalla scuola soprattutto laddove non esistano possibilità di avere spazi per tutti vediamo se c'è qualche altra domanda è vero che i bambini dell'infanzia devono svolgere le attività solo nella loro sezione senza cambiare aula ma queste potrebbero essere anche indicazioni che arrivano da qualche diciamo giornale o da qualche comunicato ma sono cose prive di logica nel senso che voi potete immaginare che il prossimo semestre faremo scuola ai nostri bambini tenendoli chiusi dentro l'aula e che questo non potrà generare nessuno spostamento queste sono tutte cose contro le quali il buon senso dovrebbe ribellarsi anzi dovremmo pensare di muovere sempre di più i bambini in alternanza fra gli spazi ma questo dovrebbe essere tipico di tutta l'organizzazione interna ripensare i giorni della settimana immaginando sempre un'attività interna alla scuola sempre anche per i bambini della materna l'uscita fuori dalla scuola dovrebbe essere programmata sistematicamente e questo si fa in tutti i paesi nordici e si potrebbe fare anche da noi quindi immaginare che c'è sempre la mattina in cui magari una classe al posto di entrare a scuola si dà appuntamento fuori dalla scuola e per qualche ora visita un luogo diverso questo ovviamente complica la vostra didattica la vostra organizzazione però è salutare per l'equilibrio dei bambini e migliora la qualità del loro apprendimento e della loro esperienza quindi mi rifiuto di pensare che non possano cambiare aula suggerirei di cambiare più possibile aule nel corso della giornata per noi la mensa già funziona come trasmissione anche a livello educativo e valoriale perfetto allora un'altra idea che mi viene è questa se vogliamo davvero uscire dalla dalla logica schizofrenica del il ministero ci dà delle regole ciascuno di noi se le gestisce e si risolve alla belle meglio i suoi problemi questo accompagnamento di fide fidae dovrebbe diventare anche l'occasione per fare rete e quindi segnalarci le buone pratiche le cose che già funzionano chi ha sperimentato e ha una buona pratica la mensa che funziona in questo caso ad esempio è Roberta Castagnoli dice ma noi l'abbiamo già fatta e funziona per noi è fondamentale capitalizzare e questo potrebbe essere veramente il portato di questo percorso quali sono le buone pratiche che già nelle vostre scuole sono messe in campo e devono diventare paradigmatiche anche per le altre scuole questo perché rassicura sul fatto che se qualcuno di voi l'ha già fatto è possibile farlo quindi un'altra cosa che possiamo impegnarci a fare è quella di raccogliere se ce le volete segnalare ciascuno di voi quale potrebbe essere la pratica che si sente di segnalare alle altre scuole come una cosa che funziona cominciamo a ragionare sulle cose che funzionano che abbiamo imparato che potrebbero essere stese alle altre scuole non soltanto su dove far centrare e uscire i bambini questo ce lo risolveremo perché questo potrebbe essere un grande valore che le scuole paritarie danno come diciamo casistica di buone pratiche che poi si mettono al servizio di tutte le scuole italiane quando ci sarà il prossimo webinar allora il prossimo webinar ce ne saranno di due tipi quelli diciamo la mezz'ora di formazione su temi specifici la prossima sarà col pediatra lunedì prossimo alle ore 18 mi pare 18 18 e 30 non ricordo se mi aiuta ma dopo avrete l'indicazione noi potremmo fare seguito a questo webinar diciamo che era di istruzione delle ecco Paola grazie questo webinar diciamo che era soprattutto esplorativo conoscitivo anche delle vostre ansie delle vostre domande delle vostre con un secondo che puntualizza alcune cose sulla base delle vostre domande questo davvero nell'idea di aiutarci sempre più possibile a risolvere questioni pratiche l'altra cosa che possiamo immaginare è queste stesse domande quelle pratiche sei per sei quanti ce ne stanno bambini della materna dove devono dormire ecco queste domande se volete oltre ad averle scritte qua segnalarle anche a Fidae costituiscono un patrimonio di stimoli per noi fondamentale la regola dei centri estivi indicano di non cambiare gli spazi va bene però i centri estivi sono un'altra cosa ovviamente i centri estivi sono anche lì un giorno rimetteremo mano ai centri estivi ma forse per la prossima estate quanti bambini per aula primaria avete fatto un calcolo metri quadri numero di bambini mille di massima domanda che pongo per scusate che non riesco a vederla per affrontare eventuali domande del mio dirigente al momento poco propenso a ridurre il numero dei bambini per classe ok anche questo non si può dire in astratto perché in realtà ci sono scuole in Svezia e Norvegia dove i banchi sono stati aboliti da tanto tempo e quindi ci sono semplicemente le sedie con la possibilità di prendere appunti su un piccolo tavolino allora la questione è che noi siamo talmente legati all'organizzazione tradizionale che non riusciamo a pensare che forse potremmo anche per sei mesi buttarvi ai banchi e consentire ai ragazzi di scrivere su piccoli tavolini pieghevoli davanti alle loro sedie in quel caso avremmo già risolto il problema della metrica se avessimo coraggio ogni tanto di dare qualche calcio al pallone io la cosa che mi sentirei di suggerire un po' anarchicamente a un preside che non voglia diminuire saggiamente il numero dei bambini per classe perché non si smembrano delle classi che hanno fatto già un cammino è abolire i banchi che è la cosa che peraltro in università si fa non si può fare con bambini di 8 anni 10 anni 12 anni si si può fare non c'è nessuna prescrizione per non farlo se non erro in verità favoriscono cambiamenti di spazio così da pulirli è certo 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 giustamente c'è un suggerimento molto corretto la fluidità dei bambini all'interno della scuola in alcuni momenti favorisce il ricambio d'aria fondamentale il ricambio d'aria questo ce lo dirà il pediatra la prima norma igienica è quella di cambiare aria e quindi che è una cosa nelle aule delle scuole non viene fatta mai e poter igienizzare i banchi e quindi dubito che ci sia l'indicazione di tenere i bambini 8 ore nella stessa classe perché sarebbe terribile potrebbero essere utile le sedie uniceratoie potrebbero essere utile le sedie come quella Paola magari tu o se no se la dottoressa Iervolino ha voglia di spiegarci meglio uniceratoie io non vedo le domande ah non le vedete ok dovremmo predisporre gli armadietti nel corridoio perché alle medie ad esempio hanno tanto materiale per cui il banco è comodo certo assolutamente un'altra cosa che abbiamo capito spostando i banchi è che la disposizione a isole a isole per le quali una parte dello spazio non viene utilizzata perché c'è banco utilizzato sì banco utilizzato o no consente ad esempio di usare il banco limitrofo per il materiale didattico che è una cosa utilissima lasciare la cartella i libri aperti il materiale per la storia per l'arte per cui in realtà anche lì bisogna immaginare gli armadietti ma anche degli spazi dei banchi dedicati al materiale ah sì 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 universitari ok esattamente ottimo intervento della collega Ierbolino allora le sedi universitarie quelle classiche che hanno il banco ribaltabile potrebbero essere una soluzione perfetta per sostituire i banchi per qualche mese e questo diciamo non creerebbe nessun problema dal punto di vista della salute sarà una data una scuola contabile libri ed è perfetto esattamente Rosaria Gerundo ci dice noi abbiamo sempre l'idea che debba essere aperto sul banco il libro però ci sono disposizioni molto più adatte al tablet e ai libri elettronici e quindi anche in questo caso proviamo a immaginare di togliere i banchi in qualche situazione limite provate a togliere i banchi vi assicuro che non succede niente che per qualche mese possiamo provare la cosa che potrebbe darvi serenità è questa datevi un semestre un quadrimestre in cui tutto è possibile perché siamo in emergenza è la prima cosa che ci deve interessare è la salute dei nostri bambini se questo è il criterio ci diamo sei mesi per imparare noi verremo a studiare gli effetti dei vostri comportamenti cambiamenti se vediamo che sono sbagliati torneremo indietro se vediamo che ci abbiamo preso gusto forse non torneremo più indietro allora la speranza è quella che vi appassioniate alle vostre aule come la grande occasione veramente di cambiamento di far trovare una sorpresa ai nostri ragazzi a settembre non vorrei far passare le scuole paritarie per vittime ma in un contesto in cui molte scuole rischiano di chiudere per la mancanza di fondi come facciamo a prestare sede universitarie armadietti operatori in più per la mensa certo avete ragione infatti la maggior parte delle cose le dobbiamo fare a posto zero queste sono le classiche però situazioni in cui noi possiamo diventare più creativi imprenditori che fanno donazioni attivazione di una rete di solidarietà che lavori sulle scuole filantropi che hanno voglia di finanziare le nostre attività smettiamola di pensare che il ministero dia dei soldi attiviamoci sui territori immaginiamo degli scambi l'imprenditore voi mi dite dove siete e io vi trovo l'imprenditore più vicino a casa sua disponibile a fare come si faceva un tempo quando siete nati con i vostri fondatori quando c'erano i filantropi imprenditori bancari del vostro quartiere che vi donavano gli oggetti gli oggetti non devono essere un problema in un paese come il nostro allora se usciamo dal dal chemisteo entriamo nell'epoca del proviamo a sfidare la sorte io vi trovo la banca più vicina alla vostra scuola disposta a finanziarveli e si fa pure pubblicità perché facciamo così cioè dobbiamo uscire da la priorità è banchi nuovi per i nostri ragazzi a quel punto attiviamo una rete io ve la trovo di banche economia civile economisti civili mettiamo insieme imprese le famiglie ex allievi filantropi gente che ha voglia di fare un investimento anche questa può essere una cosa che attiviamo insieme come FIDAE una raccolta di fondi facciamola perché dobbiamo sempre aspettare la provvidenza dal cielo la provvidenza sono le persone a cui chiediamo aiuto e quindi Andrea ci rivediamo per capire quali sono le banche sul vostro territorio e capire in che modo attivare la generosità della gente perché la gente non vuole dare soldi senza sapere a cosa servono ma se sono per una buona causa spendono volentieri e l'ho sperimentato personalmente facendo una raccolta di tablet per i bambini del mio quartiere come l'ho fatta io la possiamo fare insieme Reggio Calabria ci sto ok dobbiamo fare ok occorre fare più fundraising ecco questo potrebbe essere una cosa che nasce da stasera cioè GoFoundMe ci sono tantissime piattaforme molto facili in cui anziché dire dateci soldi finanziamenti 50 banchi 50 sedie per i miei bambini vi assicuro che poi vi faccio la foto e ve la mando attivazione delle banche territoriali cortocircuitare l'economia se facciamo questa cosa la gente tornerà a innamorarsi delle nostre scuole allora il sostenitore non è solo quello che ha il figlio il sostenitore può essere un imprenditore locale un parroco chissà mai che pure la chiesa si metta la mano sulla coscienza e ci dia una mano a migliorare le scuole dei nostri figli questo mi impegno ad aiutarvi grande Elena degna di questo nome in terra dice questo chi è Rosaria ottima idea quindi su questa cosa del fundraising penso che possiamo fare un salto di scala tra l'altro daremo uno schiacco morale a questo paese che noi laddove non ci aiutano ci aiutiamo da soli la mia scuola nel quartiere a chi rivolge per avere un aiuto ok BCC BCC dopo vi do i contatti partiamo con le scuole le banche territoriali chiediamo di finanzarci la messa a norma delle nostre scuole questo appia tuscolano ve la troviamo subito insomma mi sembra che siete stati brevissimi lo pusevo dire abbiamo un sacco di lavoro da fare abbiamo un sacco di lavoro da fare infatti voi pensavate di riposare ma in realtà noi abbiamo tutto giugno e luglio abbiamo capito come possiamo ancora aiutare le scuole non so se Elena dovete aggiungere qualcosa altrimenti non mi interessa tanto a finire con una battuta con una battuta visto che il cambiamento è sempre la cosa più difficile da pensare da mettere in alto non facciamo il nome però un direttore d'istituto davvero illuminato ci ha parlato di questa cosa di questa innovazione che voleva porre nella sua cappella è una cosa che tra l'altro io ho sempre pensato e cioè di svuotare le chiese delle pante e lui mi ha detto che si impegna a settembre a togliere tutte le panche dalla sua cappella allora se togliamo riusciamo a togliere le panche dalla cappella credo che si possano togliere anche dei banchi esatto poi c'è la domanda i ragazzi dovranno indossare la mascherina insomma avete fatto tante di quelle domande inimmaginabili penso di averne visto il 30% mi scuso con quelle che non ho visto ma è scritto molto piccolo e quindi ne ho perse però se mi garantite fidare regia che le salvate tutte questo per noi è un patrimonio enorme per farci un'idea delle difficoltà reali perché poi siete voi sul campo noi possiamo soltanto diciamo seguirvi sorfando cercando di starvi dietro però le domande possono partire da voi due cose mi piace lasciarvi con due due impegni appartenere a un'associazione a valore soltanto nella misura in cui si lavora insieme se ne usciamo che ci è venuta voglia di fare fa un raising o addirittura scambio di mobili tra scuole che ne hanno troppi cioè possiamo mettere fare una specie di scambio di arredi per le scuole possiamo fare richieste di arredi possiamo contattare gli imprenditori dell'economia civile per quello avete chiamato noi io sono vicepresidente della scuola di economia civile a questo dovrebbe servire a tirare a lucido le nostre scuole e renderle adatte a voi scambio di buone pratiche scambio di buone pratiche se uno tra di voi l'ha fatto tutti devono poterlo sapere quindi a brevissimo noi avremo un sito dedicato a vogliamo fare scuola che sarà il luogo dove scambiarci le esperienze se ne usciamo che in tre mesi abbiamo tirato fuori il meglio della scuola paritaria questa è la miglior pubblicità possibile perché un conto è raccontare che siamo bravi un conto è farlo e qui siamo un passaggio top grazie grazie Elena grazie Fiore grazie per il vostro entusiasmo ma grazie per la vostra grande competenza ho ricevuto un messaggio di doppio applauso dalla Presidente che vi ha seguito comunque a distanza negli intervalli che riuscite a farlo e mi ha raccomandato di trasmettere gli applausi che lei fa io vi permetto di ricordare che questo percorso di oggi è in continuità con tutti gli interventi che Elena Granata ma anche Anna hanno fatto e appunto essendo in continuità sviluppano e hanno sviluppato concretamente dei temi che stiamo portando avanti trovate per chi non l'avesse ancora fatto le registrazioni sul canale YouTube della Fidae ma anche sul sito stesso della Fidae e poi come diceva Elena a breve avremo il sito dedicato in cui tutto questo confluirà sicuramente continueremo il percorso Elena ti sei impegnata alla grande abbiamo la registrazione il fundraising per la Fidae ormai peggio per te no siamo contenti siamo contenti e soprattutto è una cosa in cui ecco personalmente credo ma credo lo dicevamo proprio ieri in un'altra contesto in un'altra unione di scuole paritarie noi dobbiamo diventare più esperti in questo invece in questo probabilmente il cammino è da fare vi ringraziamo ricordo ai partecipanti che possono avere poi l'attestato compilando il questionario intanto Elena come ha promesso vedrà le domande e poi vedremo il documento che verrà prodotto vi ringraziamo ancora salutiamo tutti grazie ancora Fiore grazie ancora Elena per tutto quello che ci avete regalato stasera buonasera un saluto a tutti grazie 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 a tutti